E c'è una vasta area poco conosciuta, ricca di storia e natura, una bella alternativa al mare, sono le balli di Comacchio. Noi ci andiamo con Anna Maria Cremonini. Oggi ci siamo spostati, ci siamo allontanati dalle rive del mare, ma non di tanto, di appena 4 km. Eppure il paesaggio cambia radicalmente, mutano i colori, le atmosfere. Siamo nel parco del Delta del Po che l'UNESCO ha inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità. Siamo con Dario Guidi, esperto ambientale. Benvenuto. Allora, che cosa possiamo trovare, che cosa possiamo ammirare in questo luogo? Una delle osi più suggestive, sicuramente, del parco sono le valli e la salina di Comacchio. In particolare, la presenza della vifà un'acquatica è sicuramente una fonte di interesse. Tra le oltre 300 specie che vengono censite ogni anno nelle valli, vorrei citarne una che è appunto il fenicottero, alle mie spalle appunto c'è la salina, dove il fenicottero nidifica stabilmente dal 2000. Sono dati di pochi giorni fa, forniti dal parco e dall'ISPRA, sono 1800 circa i nuovi nati che vanno a incrementare una colonia già molto nutrita, che è il nostro vanto. E per ammirare i fenicotteri, ma non solo, da qui ogni giorno partono imbarcazioni che accolgono i turisti. Vediamo il servizio di Francesca Malaguti. È a due passi dalle spiagge dei Lidi Ferraresi, ma a molti resta sconosciuto. Eppure è un paesaggio che vale davvero la pena visitare il Delta del Po, tra i più ricchi al mondo di varietà di specie animali e vegetali. I più numerosi sono gli uccelli. I nostri biologi ne hanno classificati 270 specie, per cui gli aeroni che avete visto, i gabbiani, i cormorani, le alzavole, le anatre, ci sono quelli che rientrano dal Nord Africa, come le volpocche, le beccacce di mare, trovano il loro ambiente ideale per nidificare e rimanere anche in periodo estivo. Vedere coi propri occhi questa natura per un giorno è un'alternativa alla spiaggia che attira sempre più turisti. In questo periodo, ogni settimana, quasi tutte le nostre imbarcazioni partono al completo, possiamo dire. Quindi ogni giorno parte un'imbarcazione. Parlo di piccole imbarcazioni che portano 15-16 persone, come pure motonavi. Alcune delle vostre navi sono elettriche. Questo che vantaggio porta? Beh, il vantaggio di una escursione in totale silenzio, chiaramente. Quindi un'escursione estremamente rilassante, piacevole e soprattutto a basso impatto ambientale, visto che siamo all'interno di un parco. Su una piccola barca come questa ci si può inoltrare nei cannetti, dove il fondale è molto basso, fino a 50 centimetri. Noi veniamo da Rieti, siamo qui a Lido di Pomposa e abbiamo pensato di coniugare il villaggio anche ad una gita, ad un'uscita di questo tipo, diciamo, di altro. Ti piacciono gli uccelli? Molto. Quello che ti è piaciuto di più di oggi? L'aerone rosso. Noi da Monaco di Baviera. Sono tanti anni che veniamo qua a Volano. Saranno 35. E questa gita l'avevate mai fatta? No, mai fatta. Ma è una gita bellissima. Lo abbiamo sentito nel servizio, è un turismo che cresce questo. Sì, negli ultimi anni abbiamo assistito appunto a un incremento dei visitatori che nel parco si concentrano in particolare in primavera e in autunno, anche se riteniamo molto importante far crescere la sinergia tra il turismo balneare e appunto questi luoghi che possono dare un grande valore aggiunto al territorio. Come si può visitare il parco con le imbarcazioni ma non solo? Sicuramente con le imbarcazioni ma anche in bicicletta e a piedi visitando i nostri centri storici e degustando i nostri prodotti tipici. E con questo, grazie, la linea può tornare a Bologna. Grazie a tutti.